Salve ragazzi, benvenuti alle barzellette del nostro amico Tom. Oggi Tom vi racconterà la barzelletta Pierino innamorato. Pierino attende Camilla, una sua amica fuori dalla scuola, quando la vede la ferma e gli dice Da quando ti ho conosciuto non sono più riuscita a chiudere occhi ogni notte, restavo sveglio, disteso sul letto a guardare il soffitto e pensare a te, sempre a te, combattendo la mia timidezza e cercare il coraggio di chiederti di uscire insieme una sera. Camilla commossa e lusingata allora gli dice Va bene Pierino, andiamo a mangiare una pizza insieme stasera. Ma Pierino subito gli risponde Ah no Camilla, stasera rimango a casa e mi faccio una bella dormita. Ah no Camilla, stasera rimango a casa e mi faccio una bella dormita.